Vedrai, vedrai, Ferre, tra poco arriveranno un sacco di clienti Non arriva nessuno, Steph, e diventeremo poveri e dovremo demolire il laboratorio Lo sai questo che lo dovremo demolire, Steph? Non lo demolirò mai, hai capito? Perché è stata una perdita di tempo, come tutte le cose che tu fai Ferre, è colpa tua, ho dovuto fare esplodere metà mondo per dimostrarti che è una figata in serie degli scienziati E adesso tutti ci odiano, quindi se non vengono i clienti è soltanto colpa tua, hai capito? Guardami negli occhi, ti odio Ferre, io vedo una persona, secondo te sta venendo da noi o ha sbagliato strada? Ha sbagliato strada, Steph, chiaramente ha sbagliato strada Luca, attenzione, è quasi venuto Ferre, si è fermato, forse ha cambiato idea, oh mio Dio Salve, salve Luca, non abbia paura, non mangiamo nessuno Le serve il nostro aiuto, per caso? Secondo me ha cambiato idea, Ferre, ci ha visti qua disperati alla porca Anche secondo me Vieni, vieni, facciamo finta di star lavorando, perché se tu sei lì ad aspettare Esatto È come quando vuoi andare in un negozio e c'è, capito, quello che vende le cose che sta lì davanti Proprio pronta a guardarti, devi stare qua a far finta di star lavorando E così Lucas non ci sente in soggezione Far finta di essere degli scienziati seri Lo siamo, Ferre, lo siamo, dannazione Ci devi credere prima di tutto tu, altrimenti gli altri non ci credono Ok, andiamo a vedere Guarda, 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 era venuto, era venuto No, no, ci siamo, Lucas Aspetti, aspetti, aspetti Aspetti, aspetti, siamo disperati No, non è vero Ok, Ferre, ci vuole parlare Oh, bello Allora, devo fare una voce da Lucas Salve, ho sentito dire che siete due scienziati Potreste darmi una mano? Ma certo Il mio raccolto è stato distrutto dall'ultimo temporale E se non trovo una soluzione, io e la mia famiglia moriremmo di fame Ferre, è una situazione grave È tristissima E mentre si è un po' allontanato per fare più scena Tipo, oh, sto piangendo Sì, no, sai che cos'è? Secondo me si è messo a piangere È commosso dalla storia che stai raccontando, Steph Qualche tempo fa uno strano mercante mi ha venduto degli strani semi Potreste analizzarli voi al posto mio? Ho provato in tutti i modi ma non sono riusciti a farli crescere Sono la mia unica speranza Va bene, Lucas, ma... Ferre, se ne è andato? Steph, è molto provato dalla storia che ci ha raccontato, è normale Ma a me sembra strambo, ok? È normale che vengano da noi soltanto le persone un po' toccate Ascolta, Steph, guardami in faccia Non abbiamo soldi, siamo poveri Non possiamo anche criticare i clienti Quindi adesso andiamo, prendiamo i suoi 6.000 e analizziamo Ferre, ma mentre parlava camminava all'indietro Lascialo perdere, Steph, lascialo perdere Non è un problema nostro, i soldi Ci servono solo i soldi Ma si ha detto che sta morendo di fame, non ci paga, Ferre Ci pagherai in qualche modo Ma in che modo? Andiamo È una pessima idea, vabbè Andiamo da sto Lucas, va Sì, davvero sicura? Ci dobbiamo davvero... Va bene, va bene Vai tu, però Ah, vabbè, grazie Vai tu, Steph Scusa, scusa, mi è partito un ceffone nei tuoi compi Ok, Lucas Dacci tutto quello di cui ci hai parlato Fammi vedere un attimino Ferre, ha davvero dei semi strani Ok Si chiamano Diamond Seeds Io non li ho mai visti in vita mia È una roba particolare Aspetta, me li faccio dare Ma il cavallo mi ha spinto Anche a me era due ore che spingevo e stavo ridendo da sola, ok Gli hai presi Steph, smettila di picchiare i cavalli E poi ha pure un innaffiatorio sempre particolare Allora, guarda, 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 guarda Questi qua sono i semi, ok? Ok E questo sembra un innaffiatorio particolare Aspetta che lo provo Non funziona, Ferre Ok, non so neanche come si usa questo Forse va riempito, Steph Riempito lì nell'acqua Può essere, può essere Allora, grazie mille, Lucas Noi andiamo in laboratorio Proviamo a scoprire qualcosa riguardo a questi semi Vediamo se possono essere utili in qualche modo E cercheremo di dargli una mano Così magari parlerà in tutto il villaggio Di quanto siamo stati incredibili e fantastici E finalmente avremo dei clienti Esatto In effetti, Ferre, magari sarà gratis questo lavoro Ma almeno può essere utile per una volta Esatto Perché magari parla bene di noi Dopo le esplosioni che abbiamo fatto Buona pubblicità, Steph Esatto Buona pubblicità Buona pubblicità Buona pubblicità Il problema, Ferre, è che non saprei come usare questi semi Perché non li ho mai visti in vita mia Beh, Steph Direi che visto che sono dei semi Proviamo a piantarli, no? Mmm, dici? Eh certo, scusami I semi cosa ne vuoi fare? Beh, ma sono semi di diamante O provi a cucinarli e metterli in qualche piatto strano O li piantiamo, scusa Ok, allora A meno che tu non ti voglia mangiare dei semi di diamante Di diamante, poi hai detto, scusa Sì, Ferre Come semi di diamante? Guarda Famili vedere Guarda, 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 guarda Sei pazzo Come dei semi Secondo me questi hanno valore, Ferre Mi è venuta un'idea Dimmi Li rubiamo, scappiamo via e diventiamo ricchi Sei d'accordo? Ferre, ma chi li compra? Non li vuole nessuno Se non scopriamo come si sfruttano Sì, scusami Stef Se sono semi di diamante Vuol dire che piantati ci daranno i diamanti Può essere, ma dobbiamo trovare il modo Allora, ridammi quel semi No Vabbè, te ne lascio uno Vieni qua C'è la mia cesta in super segreta Con tutti i nostri beni Diciamo così Che ho nascosto qua Perché l'hai messa qui sotto? Non viene nessuno Perché Ferre, se no la gente ci ruba le cose Ma non viene nessuno in questo lavoratore È pieno di cose di valore Guarda dentro Non ruba di nulla, mi raccomando Belle, soprattutto le bistecche Questi sono tutti i nostri averi Dopo le cose che ti ho creato Siamo finiti così Comunque, ci basta del legno Ci creiamo una crafting table E dato che non abbiamo neanche quella Nel laboratorio in questo momento Sì, la sai, molto triste la situazione Ok Sono pronto Vieni a Ferre Ok, ok Andiamo, andiamo, andiamo Ovviamente è vicino all'acqua, no? È certo, certo Quindi dobbiamo scegliere un buon punto Allora, lì abbiamo il laghetto Che dici? Vicino a Lucas? No, perché poi Lucas ci vuole lavorare No, no E' meglio essere un po' lontani Ci ruba i diamanti, Lucas Ferre, sono suoi i diamanti Non può rubarceli se sono suoi Scolta Stef, lui non ha capito come funzionano Se lo capiamo noi ci riteniamo noi È giusto Non mi piace a me questa cosa Vince chi capisce le cose È sempre così Allora, uno, due e tre Ok Ok, proviamo a piantarli Vado Funzionare funziona Ok Sono diventati dei germogli Almeno quello A questo punto Ferre Dobbiamo stare qui ad aspettare e guardarli O dobbiamo provare magari ad innaffiarli con questa Beh, ci ha dato quella Suppongo Sì, ma lui non ha trovato un modo Secondo me ci ha dato Ci ha dato a caso, capito? Tipo, ah, penso che possa essere utile Beh, tecnicamente dai I germogli dovrebbero germogliare Perché sono vicino all'acqua Però aspetta Ferre Uno è più grande degli altri due Teoricamente Sta già crescendo Sta già crescendo Sta funzionando Ok Allora, siamo a posto Stef Quindi li lasciamo così e torniamo fra un po' di tempo Eh, credo di sì Ok, ma la torniamo a casa Andiamo Ferre, forza Forza Coin, vieni che ti faccio vedere le piante di diamanti che abbiamo piantato Sperando che siano cresciute Stanno portando in giro Sì, Ferre, guarda che bellino Eh, Coin, ma un po' più veloce Per favore, dai È piccolina, è normale che stia letto Dai con quelle gambette Corri, corri Mamma mia Povero, vabbè, lascialo Primo poi arriverà Allora, Ferre, andiamo a vedere se sono cresciute un altro pochettino Allora, un'altra è cresciuta allo stesso stadio dell'altra Ok Ma è passato un sacco di tempo e non ci sono progressi Ferre, io provo ad innaffiarle Sì, sono d'accordo Spero di non ammazzarle Dallo a me, Stef Sì, io sono bravissima con le piante Ferre, devi essere delicata Lo so Mi raccomando Dammi, grazie Tieni Mi raccomando, Ferre Non rovinare tutto Sei pronto, Stef? Vai, Ferre Mi stai guardando? Ti sto guardando, vai Uh, ma adesso che è cresciuto? Un pochino Vado di nuovo? Ma le stai innaffiando? Perché non vedo nulla? Allora, gliene ho dato una di innaffiata e quella al centro è cresciuta Ok, prova di nuovo Non è successo niente? Sì, è cresciuta questa di destra Ah sì? È diversa dagli altri due Ah, è un po' simile È un po' strano da riconoscere Sembra che si velocizzino Forse vogliono Forse vogliono un sacco di acqua Ferre, prova a darmi l'anaffetto io un attimo Tieni, tieni Guarda Guarda questa Sta quasi per sbocciare, Stef È quasi sbocciata Allora, cerchiamo di far recuperare le altre Vai Ferre Perché con me non funziona? Cioè Io te l'ho detto che io sono esperta di piante Mentre tu non lo sei, Stef Vedete come non funziona nulla nella vita Spiegamelo tu Cioè, davvero non funziona? Guarda Tasto destro? Io non vedo Allora, Stef È cresciuta Volevo dire che sei buggato Ma questo splendore mi ha un attimino distratto, Stef Oh mio Dio Oh mio Dio Ma sono petali di diamante quelli, Ferre? Sono petali di diamante, Stef Siamo ricchi? Io me la prendo Vado Vai? Vado Cosa ti ha dato? Allora, mi ha dato del diamond seed No, mi ha ridato un semino Perché la diamond essence l'ho presa io Oh mio Dio, me l'hai rubata, dammela No Cosa vuol dire diamond essence, Stef? Non ne ho idea, Ferre Non ho mai visto nulla di simile Cosa possiamo fare con questa essenza di diamante? Allora, se la metto in crafting Non succede nulla E non ho mai visto un oggetto simile Sembra Forse Un diamante bellissimo Aspetta, aspetta, aspetta Sto pensando Dimmi Non è che magari abbiamo bisogno di tante essenze per trasformarle in diamanti? Potrebbe essere Magari più di una ne serve Fatto sta che ne è cresciuta un'altra, Ferre Vabbè Ok Visto che vi da un semino, Stef Io lo ripianto Lo ripianto qui, scusa Aspetta un attimino che Espandiamo un attimino la coltivazione Scusami, Coy Hai appena pestato Coy, Stef Per le mezzo, scusami, Coy Povero Non volevo È stato tristissimo Volevo soltanto piantare i semini Scusami Non lo farò mai più Te lo prometto Comunque ha perso solo uno di vita Adesso vado a cercare un fiorellino Ferre, hai piantato il tuo seme? Sì, l'ho piantato Ok, allora Tieni Falli crescere di nuovo A me serve un fiorellino Fiori Allora, innazio tutto Sono felice Coy Che gli ho dato una sberla per sbaglio Mi sento in colpa Ok, ecco qua un fiorellino Perfetto Prendo questo Coy Ma è caduto nel burrone Ah no, eccolo Ciao Coy Te lo porto via, eh Ok Ti sento da qua giù No, è tornata a 31, è tutto a posto Mi sto facendo crescere tutte le piante, Steph Corri a vederle Ma crescono velocissime con quel coso È incredibile Mi domando come abbia fatto l'agricoltore a non capirlo, scusa Cioè non è che ci abbiamo messo molto Il raccolto invece che il temporale se l'è distrutto da solo Secondo me Perché secondo me Magari, capito È un po' inesperto E ci ho detto un po' una bugia Io te lo dico Io te lo dico Può essere Può essere Può essere Allora, quanti semini abbiamo? Io ne ho due Io ne ho uno Cioè ci danno sempre lo stesso quantitativo di semini Non riusciamo ad ampliare Quante essenze hai? Una Io ne ho quattro E siamo a cinque essenze Ferre, vado alla crafting table Tu continua Eh, provo a vedere se succede qualcosa E vado a vedere se succede qualcosa Tu continua a farne altre Vediamo un po' se fu riesco a fare qualcosa Uno, due, tre, quattro, cinque Messi così non succede nulla Messi così non succede nulla Ferre, mi sa che non bastano cinque Ma tu stai continuando? È certo che sto continuando Ci sono novità, Ferre? Ho fatto un'intera piantagione di diamanti Cosa vuol dire, Ferre? Un'intera piantagione di diamanti Ti ho lasciato lì due minuti Era quello che non dovevi fare, Steph Aspetta Coin Andiamo a controllare Muoviti, muoviti Che questa è pericolosa Magari sta già scappando in Messico Con i pochi semini che abbiamo fatto Magari, Steph Magari Magari, magari Dov'è? Dov'è finita? Eccola Ferre? Eh Cioè Come ci sei riuscita? Coltivando, annaffiando Cos'altro ti devo dire, Steph? Cos'altro ti devo dire? Diventiamo ricchi se ti lascio qua due giorni Lo so, lo so Io non sono un agricoltore Io vado dove ci sono i soldi, Steph Diamanti uguale soldi Soldi uguale ricchezza Va bene, va bene Ho capito, ho capito Anche di questo mondo Allora, Ferre In questo momento Ognuno nove Se c'è qualche speranza Che queste diamond essence Servano a qualcosa È mettendole tutte nove Tutte esatto Nella crafting table Vado? Vai Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Sette Otto Nove Ti dà un diamante? Sì Oh mio Dio Ho avuto ragione, Steph Te l'ho detto Che andavano messe Nella crafting table Te l'avevo detto Ferre, ti rendi conto? Ti rendi conto? Abbiamo tra le mani Una fonte di diamanti infinita Mi è venuta un'idea geniale Quando torna Lucas Gli diciamo che non siamo riusciti A farli coltivare A farli crescere Gli diciamo che sono rotti Sui semi, ok? Ferre, ma così non verranno mai altri clienti Perché saremo stati completamente inutili Non mi sembra una buona idea Non lo so, Steph C'è perché già siamo abbastanza ricchi così Se coltiviamo questi per sempre C'è da dire che diventiamo davvero davvero ricchi Ma così facciamo la serie da coltivatori Non siamo più degli scienziati Che fanno delle cose fantastiche E incredibili Ferre Non piangere, Steph Dai Non piangere Facciamo felice Lucas Ti prego Io ho un'idea E presente quando tu trovi un portafoglio Lo riporti indietro Il tipo ti ringrazia E ti dà una parte di quello che tu gli hai riportato indietro Steph, lo sanno tutti che non te la danno mai Non te la danno mai la parte, scusami E magari Lucas è diverso Magari non ci dà dei diamanti Ma ci dà qualche semino Noi possiamo continuare la nostra coltivazione E nel tempo avremo qualche soldo anche noi C'è qualche speranza Eccomi Ferre Guarda, Steph Il mio capolavoro Ferre, sono cresciute tutte Ma come cavolo hai fatto? Con la macchia tu io Sì ma Con questa Che tu non sai usare, Steph Quindi non fare domande Capisci? Con la paura Questa è un po' pazza Ogni volta che gli diamanti impazzisci Guarda che ti sento Sono dietro di te Non lo vedi che sono dietro di te Sei stata bravissima Sei stata bravissima Sì ma Lucas sarà super felice Allora Raccolgo il volo tutto Creiamo tutti i diamanti che escono E andiamo a portarli a Lucas Sei d'accordo Ferre? Sì Non ti ho sentito Sei d'accordo? Sì Salve Lucas Abbiamo buone notizie Si è sgobbato il cavallo nel frattempo Sta fluttuando Sta camminando nell'acqua Perché stava pensando di vendere il cavallo? Eh sì Talmente povero Mi faccia leggere Oh mio dio Avete trovato un modo di coltivare quei semi Mi avete salvato la vita Purtroppo non vi posso ricompensare in nessun modo Dato che non sono ricco Però potete tenere i semi di diamante Tanto io non saprei come coltivarli in ogni caso Grazie mille Non lo dimenticherò mai Tanto te li avrei sgobbatti lo stesso Eh Prego Prego Lucas Prego Ringrazia Speriamo che parli con qualcun altro Si tenga i suoi diamanti Il cavallo pure Tanto non era nostro Noi ci teniamo i semini E ce ne andiamo Lui non saprà mai che in realtà basta usare l'innaffiatoio che ci ha dato Tenendo i semi messi vicino all'acqua E rivederci grazie Però ce l'abbiamo fatta Vabbè non bisogna dire le nostre scoperte No infatti Infatti Lui avrà pensato che abbiamo usato le pozioni Che abbiamo fatto cose incredibili qua nel nostro laboratorio Invece abbiamo soltanto innaffiato Allora questo lo metto nella nostra cesta segreta Perché è molto utile Stef Altrimenti non crescono quelle piani Anche io metto ovviamente i semini qua Fere Ecco fatto Così abbiamo tutto nascosto Coin mi raccomando non lo dire a nessuno Non lo dire a nessuno Vado a dire a Woody che siamo ricchi E che lo posso trasformare in un diamante No non puoi trasformare in un diamante Sai quanto costa Diventare un diamante anche tu Woody Sei felice Costa tipo nove diamanti Stai rovinando il momento mio di Woody Sì 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 Devo fargli capire che quello che stai dicendo tu Non è realistico e non è possibile Oltre al fatto Fere Che se non creiamo una serra nascosta Non possiamo coltivare i diamanti Perché potrebbe vederci qualcuno Potrebbero scoprire il nostro segreto e saltare il nostro laboratorio Ma è per questo che abbiamo Woody e Coin per difenderci Stef Fere ma per favore ma secondo te ci difendono Sì Dobbiamo creare assolutamente una serra E iniziare la nostra coltivazione Ok ci sto Così tra un cliente e l'altro noi diventeremo ricchi a sondi diamanti